Ciao a tutti e ben ritrovati, in questa lezione inizieremo a vedere le prime formule e capiremo un po' come funziona il mondo delle formule perché appunto questo Excel è un foglio di calcolo e innanzitutto la prima cosa che bisogna imparare a fare sono appunto le prime formule semplici quindi oggi andremo a vedere le formule matematiche e vedremo un po' come funziona il pannello delle formule e alcuni trucchetti per fare tutte queste lezioni che vediamo qui nella seconda parte ci appoggeremo a dei file di esempio che Microsoft ha preparato per noi ovviamente se per caso voi avete una versione differente e magari non avete il file all'interno di Excel lo trovate comunque in descrizione ve lo condivido anch'io per sicurezzo se andiamo nel menu file in alto e andiamo su nuovo, la scheda nuova qui troviamo appunto queste cose qua che ci aiutano ad imparare ad utilizzare Excel quindi è un po' quello che andremo a studiare nel nostro corso poi noi insieme lo andremo a dettagliare un po' di più quindi la prima cosa da fare è aprire il benvenuto in Excel quindi cercate questo riquadro qua, fate un bel click si apre questa cosa, lui lo scaricherà da internet, fate crea qui si crea appunto un file di questo tipo dove vedete in basso avete delle schede che vi spiegano diverse cose allora oggi iniziamo appunto dalla somma quindi qui vedete appunto che sulla sinistra trovate la descrizione di come funziona il somma e il somma se adesso ve lo spiego io con calma così vediamo anche qualche altro dettaglio e sotto vedete anche dei dettagli ok eventualmente quando avete approfondito se volete approfondire anche utilizzando questo file oltre che la mia lezione in fondo in fondo trovate anche dei link che vi portano al sito della Microsoft quindi potete premere ad esempio qui si apre il sito della Microsoft che fa un ulteriore approfondimento ancora della somma quindi ad esempio qui ci sono dei bottoni vedete se premo sulla sintassi lui spiega un po' tutta la sintassi se premo sulla procedure consigliate qui fa vedere diversi esempi anche magari se ci sono degli errori che dà valore adesso comunque li vediamo, Reef e tutte queste cose qua quindi ogni volta che trovate una formula tendenzialmente trovate anche la sua spiegazione all'interno del sito della Microsoft e qui questo file è ben fatto perché veramente spiegano tutto bisogna stare qua a leggerselo ma è veramente ben fatto perché dà anche gli approfondimenti allora andiamo qui sulla destra praticamente facciamo così stringiamo un pochino qui come facciamo a fare la somma di questa cosa qua allora noi abbiamo la cella gialla e noi dobbiamo sommare quello che ci sta sopra allora vedete qua su c'è praticamente la barra della formula cosa significa che se io premo Fx vedete questo tastone qua mi compare praticamente, crea una funzione no? e lui qui mi dice buon crea la tua funzione e sotto mi dà tutte le funzioni usate di recente ma se io qui faccio, premo qui nel menu discesa e premo tutte mi compaiono tutte le formule che Excel ha al suo interno e ogni volta che io clicco su una formula sotto mi fa vedere esattamente come va scritta ad esempio qui dbdevst va scritto il database, punto e virgola, campo, punto e virgola, criteri e sotto mi dà anche una descrizione di quello che appunto ci fa la formula difatti scendiamo qui e premiamo su somma vediamo che lui dice guarda somma mi mette il numero, punto e virgola un altro numero, punto e virgola e altro ovviamente la formula può essere scritta anche in altri modi difatti adesso andremo a vedere nel dettaglio e qua comunque mi dice somma i numeri presenti in un intervallo di celle allora se noi andiamo qui e comunque la possiamo fare qua quando noi iniziamo una formula sempre con il tasto uguale quindi quando noi definiamo il tasto uguale vedete quando io scrivo qui l'uguale compare anche sulla barra della formula che sta in cima quindi nel momento in cui scrivo uguale io sto dichiarando una formula quindi qual è la funzione che ci permette di fare la somma dell'importo che sta sopra è appunto somma quindi scriviamo semplicemente somma la cosa bella di Excel, bella o brutta dipende dai punti di vista, è che se abbiamo Excel in italiano le formule saranno in italiano se abbiamo Excel in inglese le formule saranno in inglese quindi in questo caso se abbiamo l'Excel in inglese dovremmo scrivere sum sum, s-u-m ma ci va bene perché ci aiuta in italiano quindi noi scriviamo somma e apriamo la tonda ecco che lui ha l'intellisense e ci suggerisce cosa dobbiamo andare a scrivere dentro qua ok allora in questo caso noi cosa dobbiamo fare abbiamo più metodi gli diciamo ad esempio qui siamo a D ok se guardiamo le coordinate D4 il 50 è su D4 quindi noi potremmo scrivere D4 che sia a maiuscolo o minuscolo non importa poi lui ci dice fai punto e virgola e D ad esempio D5 vedete che sopra man mano che io inserisco le coordinate mi colora le celle che lui sta andando a selezionare così visivamente capirò anche la formula ma che cosa sta facendo potrei fare punto e virgola di 6 però vedete così è un po' estenuante cioè devo andare a mettere ogni singola cella ogni singola cella è utile da fare se abbiamo l'intervallo che non è consecutivo ad esempio dobbiamo sommare posso fare anche click vedete quando io faccio click lui mi seleziona la cella punto e virgola faccio click e lui mi seleziona la cella in questo caso che non è consecutivo ok poi chiudo la tonda faccio la somma di quei due numeri se premo F2 entro in modifica della formula e vedo esattamente che cosa ho selezionato però molto più semplicemente noi possiamo fare anche un trascinamento del set che noi vogliamo sommare e lui mi scrive la formula in automatico però vedete che lui ha fatto D4 e D7 però in mezzo se osservate ha messo due punti quindi con i due punti noi diamo l'intervallo invece con il punto e virgola vedete se io lo sostituisco mi prende le celle singole quindi in questo caso noi dobbiamo fare la somma di quello che sta sopra se poi io faccio un punto e virgola dopo l'intervallo io posso fare anche un'altra somma quindi ad esempio prendiamo anche l'altro intervallo vedete quindi faccio la somma di questo intervallo più ok la somma di quest'altro intervallo quando io chiudo la tonda e faccio invio vedete che mi da 300 dietri se io seleziono queste cose qua in basso ok mi fa vedere sempre sulla selezione ci sono la media il conteggio e la somma matematica quindi vedo che ho 170 poi io quindi ho selezionato questo tengo premuto il tasto CTRL e seleziono anche queste celle qua così ho questa selezione più questa selezione se guardiamo appunto io ho 310 perfetto abbiamo fatto la somma semplice adesso vediamo altri aspetti della selezione così poi nella prossima lezione andremo ad approfondire anche la formula somma se e il somma più se che sono delle formule più avanzate che ci permettono anche di inserire dei criteri alla somma ok in modo che faccia il calcolo in automatico allora vediamo che appunto qui noi dicevamo che abbiamo detto appunto il due punti per dare intervallo il punto virgola per dare l'aggiunta di un altro intervallo però ipotizziamo che noi abbiamo tante di queste cose da fare quindi magari abbiamo ad esempio abbiamo questa cosa qua ok e poi noi abbiamo ok tante altre colonne che si mettono qui quindi quando noi facciamo la copia di una formula ad esempio vedete se io premo qui e faccio CTRL C e mi sposto qui ok seleziono la K8 e poi faccio CTRL V vediamo che se io qua ad esempio ci scrivo un bel 100 vedete che la formula si è praticamente allora qui avevamo anche questo intervallo qua quindi togliamo l'intervallo per adesso facciamo solo questo se vedete la formula praticamente facendo F2 si è spostata con me quindi quando io da qui ho fatto copia incolla di qua insieme a me ok si è spostato anche l'intervallo questo perché? perché Excel è intelligente quando io appunto definisco una formula e poi la voglio riportare ad esempio da qui posso anche andare sull'indicatore che vedevamo nella scorsa lezione qua giù in basso trascino e io trascino la formula infatti se vado a vedere vedete questo è questo intervallo ok vedete che cambia quindi proprio quando vado nel più qua sotto io trascino e trascino la formula ipotizziamo che io non voglio trascinare qualcosa perché dopo magari quando io vado qua ok faccio la formula qui vedete che qui mi da RIF perché va in su e non trova delle celle se io vado qui ok e lo faccio qua lui mi fa questa selezione se mi sposto sopra vado ancora su di uno se mi sposto sopra vado ancora su di uno poi quando arrivo qua lui va in RIF perché? perché ho spostato una formula ok che va oltre il margine del foglio quindi quando una formula va in errore ok vedete appunto RIF che non è calcolabile quando c'è questo RIF appunto la formula non è calcolabile perché è saltato qualcosa ipotizziamo anche che io adesso cancello questa riga se io la cancello che cosa succede? vedete la formula si ricalcola in automatico ma se io ho questa formula e qui ci metto un punto e virgola e ci metto più ad esempio questa formula questa cella qua ok quindi sono un intervallo di questa cosa più questa cella qua ok qui ci mette un bel di 50 ad esempio ok avete visto che è diventato 200 io vengo qua cancello vedete che va in RIF perché ho eliminato proprio la colonna dove io facevo un più di quella cella lì e lui non capisce che deve prendersi quella a fianco a destra piuttosto che a sinistra quindi in questo caso mando in errore poi la formula collegata bisogna stare molto attenti a questa cosa qua un'altra cosa importante se io qui ipotizziamo che per qualche ragione io voglio sempre fare ad esempio facciamo che è il 22% no ad esempio questa è l'IVA no facciamo IVA e io voglio moltiplicare ok l'intervallo che sta qua sopra quindi io ho il mio importo e lo voglio moltiplicare ok per questa percentuale qua ok quindi che cosa è successo praticamente vedete che se io faccio l'intervallo di questa cosa qua lui mi dice che è 150 per 22 in realtà non è che fa 33 ma io sto calcolando la percentuale quindi nel momento in cui io qui vado a definire un numero 22 ok se io facessi questa cosa qua ok premo F2 poi sposto questa selezione sotto vedete io posso anche fare questa cosa quando mi prendo l'intervallo io posso anche spostare gli intervalli di somma che ho selezionato e in automatico lui adegua la formula se mi sposto su questo vedete che lui fa la somma di quello che era sopra per effettivamente 22 ok e è un po' quello che ci saremmo aspettati però io qui ho messo il simboletto della percentuale nel momento in cui io qui scrivo il percentuale se facciamo tasto destro sulla cella andiamo su formato celle lui mi converte il contenuto di quella cella in percentuale quindi essendo che ho scritto il percentuale 22% in realtà è come se io facessi la moltiplicazione per 0,22 perché la percentuale è da 0 a 1 quindi se anche noi adesso spostiamo questa cosa qua vedete e faccio invio ecco che ottengo il 33 ok per 22% ok adesso cancello questa e ci rimettiamo sopra che cos'è quindi io quindi qua ho calcolato praticamente rispetto a questo importo qua quanta è l'iva quindi è il 33% se voglio sapere l'importo più l'iva allora che cosa faccio mi riprendo ad esempio la somma mi prendo questa somma quindi faccio la somma poi ci faccio un più e apro la tonda così che cosa succede io farò prima di tutto farò la somma di questo importo qua ok e poi farò una somma ok dell'importo più il risultato del calcolo della mia iva quindi somma di questo intervallo per l'iva ok se qui do l'ok appunto ottengo 133 adesso io voglio trascinare ok che cosa succede che ovviamente Excel è intelligente non gli ho dato nessun riferimento assoluto quindi io quando trascino faccio F2 mi perde il riferimento dell'iva quindi dovrei stare qui ogni volta e mettermi qui e spostare il riferimento dell'iva ok perché ogni volta che io trascino si sposta quindi ci vengono d'aiuto i riferimenti assoluti che cosa sono i riferimenti assoluti praticamente quando noi andiamo qui ok se io gli dico guarda questa cella qua deve sempre rimanere permanente ok mi metto il simbolo del dollaro che è quel simbolo sopra ha il 4 shift 4 praticamente mettendo il dollaro io gli dico guarda questa colonna anche se io sposto la formula in altre posizioni deve rimanere permanente le altre invece vedete che non hanno il simbolo del dollaro quindi io quando trascinerò la formula le altre cambieranno ma quella della Q non cambierà di fatica adesso trascino e vedete che la Q rimane permanente vedete rimane permanente se io qui trascino in giù ok vedete che quando io trascino in giù si sposta tutto anche quello dell'iva e anche questo si sposta quindi io il simbolo del dollaro lo posso mettere sia sulla colonna ma anche sulla riga quindi posso fare il dollaro anche qua così nel momento in cui io sposterò questa selezione qua in basso ok se faccio F2 vedete il 22 rimane sempre dov'è se io vado qua e qui mi posiziono sui due punti e premo il tasto F4 lui mi mette appunto il dollaro su entrambe sia sulla colonna che sulla riga lo posso fare anche qua con F4 lo faccio anche qua con F4 lo faccio anche qua con F4 ho messo valori assoluti dappertutto quindi se adesso io trascino in giù mi resterà sempre 183 perché il riferimento rimane sempre vincolato però avendo i valori assoluti dappertutto nel momento in cui trascino a destra ovviamente anche verso destra rimane tutto in assoluto eventualmente qui bisognerebbe svincolare la K ok per il nostro intervallo di somma e poi noi appunto andiamo a trascinare e la formula funziona ugualmente se noi andiamo qui e poi ci trasciniamo in giù vedete che ripeto la stessa identica formula nel modo corretto quindi i valori assoluti ci aiutano veramente tanto quando dobbiamo copiare le formule bene direi che con questa lezione è tutta nella prossima vedremo il somma se e il somma più se così faremo delle somme con dei criteri come sempre se la lezione è stata di vostro gradimento lasciate un like iscrivetevi se non siete iscritti e magari condividete anche la risorsa nei social se vi fa piacere vi ringrazio molto per l'attenzione ci vediamo alla prossima lezione a presto ciao ciao